Nel 2016 l'indice di puntualità entro i 5 minuti dei treni in Friuli-Venezia-Giulia è del 96,27% rispetto al 94,55% dello scorso anno, entro i 15 minuti del 98,81%, 98,12% nel 2015, 96,99% nel 2014. Il dato è emerso nel corso di un incontro della regione con i vertici regionali di Trenitalia e i rappresentanti dei comitati dei pendolari, durante il quale è stato fatto il punto sull'andamento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario. La puntualità dei treni del trasporto regionale è la migliore in Italia, ha commentato l'assessore all'infrastrutture Maria Grazia Santoro. Stiamo operando, ha aggiunto la Santoro, una costante implementazione del servizio anche a beneficio del cicloturismo e del turismo legato ai grandi eventi che garantiscono numeri in crescita. Definita ed attivata pure una collaborazione con l'Istituto Statale Stringer per la distribuzione di questionari per l'analisi della Customer Satisfaction e per la profilazione dell'utenza anche sui servizi Micotra. Crediamo, ha sottolineato Santoro, che il treno debba essere sempre più il mezzo privilegiato anche per i turisti e i visitatori delle grandi manifestazioni regionali. Per la Barcolana, ad esempio, in programma a Trieste dall'inizio di ottobre, saranno attivi 16 treni straordinari, oltre ad un treno storico in andata e ritorno sulla Udine Trieste, con un incremento di 6 treni rispetto al 2015, quando furono trasportati 10.000 passeggeri.